signori buongiorno io personalmente uscito ora dall'area marina protetta che abbiamo consegnato le reti soddisfattissimo della presenza del buon giacomino del vostro gruppo che dire nonostante lui soffriva pensava di soffrire il mal di mare con tutta quell'emozione tutto chi fare tutto quello che c'era da fare sul gommone manco ci ha pensato ha tirato dritto e non gli è venuto niente nel senso non si è mareggiato a mare anzi ha continuato a filmare e credo che spero soprattutto spero presto avremo i video giacomino ti voglio bene un sacco grazie sempre e grazie della tua presenza presto posterò io i video ciao ciao grazie tano grazie questo video avrà uno sponsor hanno funzionato e comunque sia oggi non c'era tanto mare mosso quindi è andata bene comunque andava dai mi sono divertito grazie mille grazie tantissimo per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare per noi un abbraccio sponsor in sovraimpressione ciao 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 partire con il cacciatore di re di fantasma. Gnottano, un saluto agli amici del gruppo. Il tuo gruppo? Ragazzuoli buongiorno, buongiorno e buongiorno a quel ragazzo di Roberto. Ciao! Elia Scamborrino, io lo posso capire che sei a mangiare la bomba con la crema, perché ti ho visto più di una volta passeggiare davanti all'università, ma mai ti ho visto dentro l'università, eppure oggi non sei qua, nonostante fai parte del mio gruppo. Traditore. Traditore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Signor Giacomino, te la sei accollata, signor Giacomino. Ogni promesso è debito. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.